vedi napoli e poi ci torni dopo la splendida riuscitissima esperienza dell'anno scorso il giro torna nella città che sta vivendo un momento magico per la sesta tappa del giro d'italia 2023 che viene dopo la tappa delle cadute purtroppo nella tappa da tripalda salerno sono stati i corridori finiti a terra a fare notizia jay vine ha perso un minuto e 12 in classifica generale mark cavendish ha fatto un volo incredibile in volata ma ripartirà così come remco e venepul che ha qualche cerotto ma dice di stare bene alla vigilia in questa tappa riescono a ripartire tutti gli oltre 70 protagonisti delle cadute ieri fortunatamente alt che è stata una giornata che ha lasciato decisamente delle scorie sul gruppo questo è il percorso di oggi si parte da napoli centro si esce dalla città il valico di chiunzi è un gpm seconda categoria e poi si percorre tutta la penisola sorrentina e la costiera amalfitana a positano amalfi sorrento lungo il celebre tortuosissimo lungomare a strapiombo una tappa paesaggisticamente unica al mondo che poi arriva sul lungomare di mergellina 162 chilometri è una tappa che potrebbe riservare tanti diversi scenari il primo protagonista molto ben accolto al gruppo è il sole c'è del tempo oggi alessandro de marchi cerca di stimolare una fuga che possa mettere in difficoltà le squadre dei velocisti alla fine saranno in cinque simon clark alessandro de marchi appunto francesco gavazzi charlie quarterman che vince lo sprint intermedio per la corratec e alexandre delet proverà ad inseguirli anche alessandro verre partito un po in ritardo che rimarrà a bagnomaria per decine di chilometri non riuscirà mai a ricongiungersi rosicchia due punticini per la ciclamino dietro allo sprint intermedio maz pedersen la sorpresa è che sul valico di chiunzi si mette a tirare la ineos per cercare di mettere in difficoltà o almeno controllare la temperatura il renko e venepul mentre mark avendish rimane dietro cerca di essere aiutato dai compagni astana ma è caduto anche oggi mark avendish non visto dalle telecamere e quindi sarà una giornata eppure a tortura esistenziale per lui sul picco sant'angelo il secondo com di giornata se ne vanno i due più esperti della fuga alessandro de marchi per jaico alula e simon clark suo compagno fino all'anno scorso in israel premier tech se ne vanno in discesa hanno ancora un paio di minuti sul gruppo che riprende i loro ex compagni fuga ma dopo l'azione della ineos si è un po ridotto e quindi ci sono poche forze per inseguire 1 e 15 a 16 chilometri alla fine con simon clark che spinge primos roglitz anche oggi deve inseguire nel finale anche oggi vittima di un problema meccanico deve cambiare bici aiutato dalla jumbo visma a rientrare a una dozzina di chilometri dalla fine quando anche garen thomas rimane vittima di un problema meccanico chiamate agli straordinari i compagni in squadra di roglitz e thomas in questo finale con pippo ganna che si porta con sé il quartetto in eos grenadiers e riporta sotto a sua volta garen thomas ma quando mancano 3 chilometri hanno ancora 33 secondi due davanti dietro c'è la alpesi nella bahrain per groves e milan che spingono 3 chilometri 32 secondi continua a spingere clark e de marchi 15 secondi quando entrano nell'ultimo chilometro e a quel punto però alessandro de marchi smette di tirare nettamente sfavorito in volata contro clark che ha un ottimo spunto e ha vinto svariate corse in passato e allora il gruppo è vicinissimo ad andarle a riprendere quando parte come un proiettile fernando gaviria vengono ripresi brutalmente a 200 metri dalla fine gaviria lunghissimo viene rimontato da matt pedersen e jonathan milan proprio all'ultimo e matt pedersen il favorito di giornata alla fine conquista questa tappa thriller con un finale incredibile perché erano veramente vicini alla vittoria clark e de marchi se non si fossero guardati forse sarebbero arrivati in fondo e poi questo spunto in anticipo clamoroso di fernando gaviria che ultimamente fa sempre le volate così aveva vinto al giro in romandia ma stavolta dietro i lui sono arrivati un gigantesco maz pedersen che vince per la prima volta finalmente al giro italia e dietro i lui jonathan milan maz in questo modo completa la tripla corona di vittorie nei tre grand tour almeno una tappa in vuelta a giro e tour la delusione di simon clark che ammetterà è giusto quello che ha fatto de marchi ero io il più veloce ma anche io non potevo certo tirare fino alla fine doveva andare così avessimo avuto 10 15 secondi in più saremmo arrivati noi invece è stata volata sul lungomare di napoli andreas lecnesund mantiene tranquillamente la sua maglia rosa per il terzo giorno è ancora a 28 secondi di vantaggio su lemco e venepul alla vigilia della tappa fondamentale di campo imperatore del gran sasso la prima tappa di alta montagna di questo giro italia si arriva a 2130 metri una tappa che ci chiarirà sicuramente le girarchie in salita di questo giro italia o almeno di questa prima settimana e soprattutto dovremmo stare a vedere quali sono le condizioni di lemco e venepul che oggi è sembrato molto rilassato anche in partenza anche se ieri ha avuto sicuramente una discreta botta è una tappa anche molto lunga 218 chilometri con un gpm in precedenza che aiuterà a formare la fuga e poi la salita durissima di campo imperatore quasi 2000 metri di ascesa spalmati su 26 chilometri e mezzo il finale 6 chilometri virgola 3 al 7 virgola 2 per cento oggi ha vinto matt pedersen ci vediamo domani